Basta così, basta così. Allora ora si sbuccia, no? Andrebbe sbucciato. Però io tutto non ve lo faccio vedere perché sto bello venuto a noia. Facciamo le cose ridotte. Dopo ci si lava, no? Allora, questa è la punta, no? Quella è la punta, ma così. Allora, qui c'era la terra rossa o sinopia, come si vuol dire. Si faceva così. E si tirava così uno dove voleva farlo, perché secondo che travi voleva fare. Si voleva fare l'uso Trieste, veniva un po' conico. Si faceva l'uso Fiume, bisogna farlo più parallelo e un po' più spigolato. Poi il filo va battuto così. Capito? Un segno, un segno, un po' d'acqua. Allora, un po' d'acqua. Allora, no? Tanto puoi fargli vedere, vedi? Intanto proviamo a fare quest'operazione. Si. Oh, insomma, un po' diverso ci si è dato. Dopo si prendeva, guarda qua, che archibuccio, così. Ora, ragazzi, si sa. Dammi quell'accettino, quella managlina. Quale è lei? Questa qui? Dammi questa. Poi si andava, ragazzi, ma... Ecco, allora, si partiva di chi? Questa non è la mia, eh? Non vi ne fate se... Io... Metta! Questa è una buita. e lascia e si doveva vedere lasciate però questo legno è ghiacciato insomma cos'è capito